Ma quello è miele? Dall'odore sembrerebbe salsa di caramello, ma non ho nessuna intenzione di assaggiarla. Salsa di caramello? Forse al killer piacciono i dolci. Visto che è seminuda, è più probabile che sia un feticista. Mi farei spalmare di cioccolato, perfino di panna montata, ma il caramello, meglio scivolosa che appiccicosa. Si rende conto che la sentiamo?